Io mi domando come successe all'epoca nella quale i giapponesi presero la rincorsa per crescere, per diventare la seconda potenza economica e finanziaria di questo mondo, se per caso, insomma, non ci ricordiamo che cosa accadde. Accadde che prima arrivarono le radio, il transistor, le macchine fotografiche, i televisori, poi arrivarono i giapponesi, di persone, a fare che? A fare i turisti innamorati dell'Italia, perché l'Italia è un paese straordinario, tutta l'Italia è vissuta dagli italiani come noi, mi permetto di dire, anch'io agrigentino, viviamo la presenza per esempio dei templi, gli agrigentini sono abituati, tutti ci passano e nessuno se li guarda più, ma lo straniero che viene, l'estraneo che viene, il turista che viene, resta bloccato, estasiato da quello che gli si para davanti, insomma, perché è proprio uno spettacolo inaspettato, è uno spettacolo straordinario che è stato conservato, è stato conservato e dobbiamo qua tutti ad Agrigentino andare in pellegrinaggio a ringraziare coloro che hanno lavorato per conservare, per tutelare questo patrimonio, perché questo patrimonio è la risorsa più straordinaria che c'è in questo territorio. Io sono convinto che con l'attivazione del dragaggio del porto di Porto Empedocle e con la possibilità che verrà data così fra un paio d'anni alle navi di entrare, sperando che non ci siano ulteriori tormentose vicende capaci di bloccare anche questo, perché il problema l'abbiamo risolto, il lavoro lo faranno i privati, Moncada e l'Enel, quindi non ci sarà nemmeno spesa a carico della collettività, ma loro hanno il loro interesse e i cittadini, tutta la società agrigentina, l'intera provincia, interesse che questo porto, che è uno degli ingressi il più facile da aprire al territorio di Agrigento, finalmente venga liberato dalla sabbia, venga liberato da questo inutile peso della sua inutilità e venga finalmente a diventare uno strumento di crescita, di sviluppo, di speranza e di concreto miglioramento per questo territorio. Le navi da crociera che passano nel Mediterraneo trasportano ogni anno dagli 8 ai 10 milioni di persone. Il turismo crocieristico è un turismo che si basa su una selezione naturale. Chi sceglie di andare in crociera ha i soldi per andare in crociera, crociere piccole e grandi si svolgono nel Mediterraneo con un ritmo sempre crescente. e tutte le società che gestiscono queste attività sono alla ricerca costante di novità da offrire. Ora, se si fanno tanti sacrifici per scendere ad Atene, per andare a vedere la collina del Pireo, passare attraverso una città inquinata, insomma, alla fine poi un tempio c'è là sopra e mi pare che ognuno che torni da una crociera celebra questa visita. Ma che cosa potranno dire i turisti che verranno qua quando potranno finalmente sbarcare e in tre minuti da Porto in Bedocle potranno arrivare alla Valle dei Templi e potranno vedere, non uno, ma un impianto intero di strutture straordinariamente belle messe in una posizione meravigliosa e alle quali poi si accompagna il museo, alle quali si accompagnano i giardini della Colimbetra e perché no? Anche il centro storico di Agrigento che se recuperato come la soprintendenza si propone di fare potrebbe diventare un altro importante polo di attrazione. Quanta gente può scendere? Beh, il porto di Porto in Bedocle è grande, possono attraccare anche tre o quattro navi contemporaneamente. Tre o quattro navi da crociera possono scaricare diecimila persone. Io non lo so se i conti, chi se li deve fare, se li è fatti su questa possibilità e non lo so perché questo Benedetto Porto è rimasto non dragato per tanto tempo anche se c'erano i soldi. C'è una vicenda che oggi possiamo anche dimenticare, però io credo che sia dovere assoluto di tutti gli agrigentini adulti e quindi pensare ai giovani di questa città e di questa provincia che aspettano una soluzione. E secondo me una delle soluzioni sta nello sviluppo della civiltà dell'accoglienza. Disse ai ragazzi di una scuola, sulle gambe dei primi turisti che scenderanno dalle navi nel porto di Porto in Bedocle, cammina il vostro futuro, cammina il vostro benessere, cammina la possibilità di restare a casa in una realtà destinata a crescere. Perché dico questo? La crisi economica è una crisi dell'industria manifatturiera. La crisi economica è la crisi di quella parte del tessuto produttivo che non esiste sul nostro territorio, esiste in altre parti d'Italia. La ricchezza che cresce in altri posti produrrà, come ha prodotto in Giappone prima, in Russia dopo, la voglia di viaggiare. E non c'è posto più bello dell'Italia, in Italia non c'è regione più ricca di tesori della Sicilia, quindi gioco forza è che arriveranno, saranno cinesi, saranno indiani, saranno brasiliani, saranno che cosa vogliono, noi staremo qua ad aspettarli se, ovviamente, avremmo avuto la capacità di creare le condizioni perché questa gente possa venire. Quando sbarcheranno dalle navi, apriranno gli occhi per 7-8 ore su questo scrigno misterioso che è Agrigento. Certo, non potranno vedere tutto e in tanti di loro, soprattutto se italiani, nascerà il desiderio di ritornare per venire a gustare, a conoscere, ad apprezzare più a lungo questa realtà. Questo significa che non dobbiamo immaginare soltanto un fastidio di migliaia di persone che arrivano e sciamano sulle strade di Agrigento, dobbiamo attrezzarci anche perché di quelli, se il 5% decide di tornare, abbiamo risolto tutto. La gente deve sapere che l'industria dei servizi alla persona, parlo degli alberghi, dei ristoranti, è un'industria che si basa essenzialmente sulla attività diretta dell'uomo. Non ci sono macchine che possono sostituire chi lavora negli alberghi, non ci sono macchine che possono sostituire chi lavora nei ristoranti, nelle cucine, nei bar. Sono tutte cose che devono fare le persone. Quali persone? Ci sono tanti disoccupati qua ad Agrigento che possono trasformarsi piano piano in una realtà completamente diversa. La realtà dell'occupazione nei servizi alla persona. Esempi? Ce ne sono tanti. La costiera Amalfitana, la costiera Sorrentina, Taormina, per restare più vicini alla Sicilia, un po' Siracusa. Ma l'esempio più eclatante è quello dell'Emilia Romagna e della costiera Veneta, dove pur non avendo quasi nulla di bello, sono stati capaci di inventarsi, controllando i prezzi e gestendo con razionalità e oculatamente il sistema dell'accoglienza, sono stati capaci di diventare non ricchi, molto molto ricchi.